psicologico come verranno effettuate che valore avranno avvocato immaginiamo che già nella fase delle indagini i soggetti che si sono costituiti o anche quelli che non si sono costituiti parte civile a parte civili abbiano potuto interloquire con un consulente generalmente sono degli psichiatri forensi che si occupano di queste vicende e quindi una commisurazione del danno può essere data da questi super esperti fondamentalmente poi bisognerà capire in che termini verrà versato o se è stato già versato nel fascicolo del dibattimento la richiesta o le richieste c'è anche il tema aperto del comitato nel senso che c'è stata questa novità molto importante del comitato la cui costituzione di parte civile è stata ammessa e anche sotto quel profilo bisognerà capire che tipo di che tipo di risarcimento e di che tipo di natura di danno parliamo anche perché costituendosi vi sarà stato anche uno statuto in riferimento al quale anche potrebbe essere stato modellato un'idea un'ipotesi di di danno come criteri generali quindi è un tema molto dibattuto molto aperto soprattutto perché segna diciamo così un punto di contatto fra la giurisprudenza penale e quella civile sebbene il giudice penale sia signore voglio dire circa la quantificazione del danno però certamente lo deve fare attraverso criteri civilistici quindi è abbastanza complessa la materia beh guardi perché io vivo e loro no federico primo canale cioè sono persone sono creature che da quattro anni e qualche mese oggi peraltro i 14 si portano dietro questi incubi è chiaro che devi parlarne con lo psicologo con lo psichiatra questo è il rimorso del superstite si chiama così rimorso tipico degli eventi bellici dopo la guerra c'è stata una tutta una fascia di popolazione dei reduci che sentiva forte questo senso questo rimorso questo questo peso morale di essere sopravvissuti luoghi di luogo di altri soggetti che invece purtroppo erano periti ma sono fenomeni per esempio anche nel corso della triste epoca di rapimenti c'è la sindrome di stoccolma per esempio cioè il la dipendenza dal carceriere perché essendo il prigioniero dipendeva dal carceriere certo quindi si tratta di meccanismi che purtroppo sono connessi a questi grandi atti di chiamiamoli violenza questi reati e sono dinamiche che poi nell'ambito dell'animo umano assumono una loro fisionomia anche soggettiva in riferimento ai singoli che vivono questi patimenti e queste sofferenze quindi sono noti per alcuni fatti terribili che la storia ci ha dato ha fatto bene a ricordare la sindrome di stoccolma che risale peraltro decine decine di anni fa credo che una venne al tutto all'interno di una banca no ci fu una una rapina in una banca i prigionieri psicologicamente insomma cercavano di aderire in qualche modo alle 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 istanze di coloro che li tenevano prigionieri insomma si era formato questo questo sindrome molto particolare però ben noti appunto ben conosciuti che si rinnovano adesso con il disastro del ponte morandi perché queste persone sono profondamente addolorate sì per tornare ora non c'entra nulla col ponte morandi alla sindrome di stoccolma io ho un'esperienza ahimè personale familiare mio padre è stato rapito e dei propri carcerieri che in realtà lo tenevano in vita l'avevano sequestrato ma lo tenevano in vita in quel periodo non ha odio verso i carcerieri perché fondamentalmente erano coloro dai quali egli dipendeva è un meccanismo piuttosto strano in questo caso invece parlando dei temi di interesse il tema del crollo del ponte morandi e della ripeto del peso morale del sopravvissuto è un tema drammatico che probabilmente non basterà un'esistenza intera per scontare giustamente queste persone che hanno subito un danno in questo caso fortemente psicologico un disturbo fortemente psicologico chiederanno legittimamente di quantificarlo per essere eserciti anche se magari il danno poi continuerà cioè anche se gli incubi continueranno cioè io li ho avuti per quattro anni ma continuerò ad averli per chissà quanti sono immagini indelebili l'auto gialla che vola nel baratro è ovvio che non sono fatti cancellabili davanti a noi abbiamo visto sparire un camion neanche in un fumetto in un cartone animato insomma lo vediamo c'è quell'altra automobile che raccontava il vigile del fuoco una cosa impossibile che non è mai successo che fosse infilata perpendicolare proprio al suolo su una montagna di terra era un'ipotesi assolutamente impossibile cioè che sono scioccato per quattro anni ma lo sarò per tutta la vita non c'è dubbio sono miracolato e quindi come tale rivedo quelle immagini ho pensato cosa corriamo tanto moriamo tutti intanto grazie per questa grafica che appunto ci riporta poi alla all'essenza delle parole allora il processo prosegue avvocato con un buon ritmo no insomma lei di queste cose se ne intende l'avevamo detto dall'inizio conoscendo il tribunale conoscendo i magistrati che lo compongono lei ha avuto sempre parole per l'epri sono un ottimo professionista magistrati equilibrati e preparati che non si perdono neanche di fronte a giovani anche lepre giovane assolutamente non sono magistrati che non si perdono hanno quella esperienza ormai maturata sul campo ma anche quella quello spessore quella preparazione che consente di inquadrare le cose sapevo che sarebbero andate così le cose che il processo sarebbe andato avanti poi ci saranno probabilmente degli chiamiamoli inceppamenti tecnici è normale però il processo insomma lasciamoci con questo messaggio di ottimismo in tanta 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 disgrazia e tanto dolore avvocato grazie per la sua consulenza buon proseguimento nei programmi di primo canale grazie filippo rossi andrea beneggiamo che hanno curato la parte tecnica con poi questi impact questa grafica che ci ha aiutato a capire meglio a scavare meglio in questi giorni così faticosi buon proseguimento grazie